Ciao a tutti, la defesa in questa nuova top 5 fail Non è una top, sei una merda Allora, abbiamo chiesto Oh ma, cioè lui facciate lo splendido Dovete vederlo, lui rilassato Non so io come fare questo top L'intro, no? Ecco, ho fatto la figura di merda Questo è un video un po' diverso Abbiamo fatto top 5 perché abbiamo tante clip Abbiamo deciso di mettere tante clip così Una dietro l'altra Non aveva voglia di metterla in posizione Non è vero, non è vero Così il video anche dura un po' di più Sei sicuro? Facciamo conto di tutti Questa bellissima roba sciacquonente Oh il pallone pesa tanto Ma c'è il gol più bello di Messi? È fantastico questo gol Se veramente fa mani, tra virgolette Lo prendi di mano Ma guarda il portiere che gli tocca il culo Ci prova con Messi Ci prova chiaramente con Messi Guarda il gol Fantastico Ecco l'altro Cioè, gli dà il colpo quando è già entrata Sì, ma aspetta che poi si ribalta sulla rete E questo invece è il portiere più figo del mondo Cioè, questa qua è veramente Guarda che roba No, la prendo io, la prendo Cioè, come si chiama quel giocatore? Kill the dog look La prendo o non la prendo? No, secondo me Ma la prendo o non la prendo? Ma scusate, ma gli altri cosa stanno facendo? Senti, mi rotto le palle La tiro via io Sì, veramente, perché gli faceva pena quel povero portiere Mi faceva pena anche a me Che sono incastrato sul paro, cazzo Qua invece abbiamo un'Italia-Spagna Un classico proprio della nazionale Già qua inizia a rondolarsi Qua dice, ah, la vado in scivolata Cioè, sabbia l'onso che va sopra Guarda, un cavallo E quell'altro che salta Lo sta cavalcando Sì Guarda, cioè, che cazzo di ingroppamento assurdo Una roba Ma cosa stanno facendo, ragazzo? Qua invece abbiamo il... Super sfigato Manchester United? Ma super sfigato Io direi che questo è il top degli sfigati Cioè, questo qua è super mega sfigato Pallo, tiro io la bomba, cazzo Ormai la porta vuota Tiro il figo, la butto sotto Lo attirò io la dentro Lo faccio io il gol Confio la rete Invece quando hai inconfiato Hai spaccato il palo e basta Ha fatto una gran figura di merda Sì, guarda, no? Non pensare di essere tanto meglio Tu invece le fassi veramente Lui ha beccato il legnasso E invece qua abbiamo un'altra compilation Sempre di pali, ragazzi Dove c'è Podolski Attenzione, Podolski Podolski Parte il passaggio È anche bravo a giocare Ha fatto una gran roba E' il palo Adesso, ma la quale è ancora rimasto in campo Oh, oh, ecco lo fa Le gomme sal volo Sembra neanche avere Che gli fosse rimbazzata addosso al portiere E qua invece abbiamo Non so come definirla questa cosa Ma guarda C'è un fallo C'è un fallo bruttissimo Non vuole prendere l'ammunizione Io ho una teoria L'arbitro fischia Ma scusami Teoricamente, quindi Se io non vedo l'arbitro che mi ammonisce Non è ammonizione giusta? In teoria no Non è vero Non è vero Però comunque In teoria l'arbitro Viene lì per dirti Guarda che ti ho ammonito E lui scappa apposto per non farsi ammonire Cioè Puyol che lo manda a fanculo l'arbitro E poi guarda che tutti guardano l'arbitro Che corre dietro a Maldini Stadio pieno Vedo la nostra scena qua Ma si fermerà prima o poi? Sì si ferma Ma secondo me si ferma lì Uh il rigore più bello della storia ragazzi Guarda Scavetto Il portiere più deficiente della storia E qui ragazzi c'è una Secondo voi? Simulazione No è simulazione A lui l'ho chiesto Lui ha chiesto fallo Ma come fa una cadera in quel modo? È simulazione per forza di cose Non è possibile E lui si rialza tranquillamente Abbiamo fatto un 3x E lui dice Abitro abitro hai visto cazzo E qua invece c'è un altro pallone Abbastanza assurdo Guardate Traversa In pre partita praticamente Sì E attenzione Grande Un altro appartierei molto idiota Comunque ragazzi Se il video non vi è piaciuto Cliccate sul vi piace Continuate a iscrivervi al nostro canale E in descrizione trovate il link Che vi porta al sito Ciao a tutti E al prossimo video Mandiii Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti